La bolla del perdono di Celestino V torna nel salone centrale della Banca d'Italia in corso Federico II. Dopo la pausa dell'anno scorso, quando la bolla celestiniana di 700 anni fa venne esposta all'interno della restaurata Basilica di Santa Maria di Collemaggio, la bolla rimarrà ora esposta nella filiale aquilana della Banca d'Italia fino al 27 agosto, per poi arrivare scortata dal corteo storico alla Basilica Celestiniana il 28 e il 29 agosto, in occasione del Giubileo dell'Aquila, il più antico della storia del cristianesimo. Un momento importante, la perdonanza entra nel vivo, in attesa, commenta il sindaco Pierluigi Biondi, del pronunciamento dell'UNESCO sulla perdonanza patrimonio immateriali dell'UNESCO. Con Banca d'Italia da subito la collaborazione è stata saldissima, a partire dal precedente direttore Marzano, che io ringrazio, che ci ha consentito per la prima volta di rendere visitabile la bolla restaurata. Non è un dato scontato, perché forse pochissimi aquilani avevano visto la bolla prima della possibilità che ci è stata offerta da Banca d'Italia. Ed è un simbolo identitario di questa terra che si mostra però al mondo e ai numerosissimi turisti che già hanno prenotato le loro vacanze nella settimana della perdonanza. C'è l'aspetto naturalmente religioso, che è quello più importante, che è quello centrale. Ci prepariamo al momento dell'accensione dei fuochi e quindi all'annuncio dell'apertura della perdonanza. E poi il 28, il corteo, con l'apertura della Porta Santa e la possibilità di ricevere l'indulgenza nei due giorni, dai vespri del 28 ai vespri del 29 agosto. Naturalmente ci sarà tutto il corredo degli eventi pensati, immaginati, scritti e realizzati soltanto per l'Aquila. E poi in autunno ci saranno notizie sul fronte UNESCO per il riconoscimento della perdonanza come parrimonio immateriale. A dicembre ci auguriamo l'annuncio formale di questo riconoscimento che sarà fondamentale per...